bella da lì che raga bentornati su Eurotrack Simulator 2 era da un bel pezzo che non ci facevo un video dai so che molti me lo avete chiesto e cercherò oggi quindi di accontentarvi e potete anche sentire un po' di musica di sottofondo ringrazio i Black Riff Smash per avermi diciamo consentito ad usare i loro brani potete trovare nella descrizione del video dove c'è scritto musica intro trovate insomma i loro brani, il link per scaricare i loro brani perché sono brani gratuiti quindi li potete tranquillamente scaricare e io le ringrazio per avermi dato insomma il consenso anche ad usarli nei miei video ok, allora cerchiamo un lavoro va è la stessa appunto è lo stesso brano che ho messo nella intro del canale ok ho il camion un po' messo male scendiamo anche le luci ok, siamo pronti ce la facciamo per oggi andiamo a prendere sto carico dai, è prima che diventa rosso wow, 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 guarda questo andiamo a prendere sto bello carico e si parte subito per il viaggio raga questo è così lento che giustamente ci beccchiamo in rosso mi pareva che era solo solo musica strumentata no c'è anche anche il cantato come ne amo alleluia un po di musica ci sta sennò a me sto gioco mi fa venire sonno devo andare a sinistra oh 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 vado sto scemo mi deve salire addosso oh yeah ci siamo abbassò un po il volume della musica forse è un po forte è tutto ok devo andare bene ok si parte oh vai ciao combattu dai camminiamo dai che c'ho un carico da portare guarda questi che non camminano porca di quello verde porca miseria è verde minchia certo non ci diamo la precedenza a quelli che quando passiamo mai ma lo vediamo ma do e qua non devi che diventa verde domani forse senti io non ti aspetto mica sai avanti va no dai rimani verde altri 5 minuti magari vada bambu dai 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 verde 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 non ai 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 raga 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 spero che la musica di sottofondo non sia troppo forte spero che mi sentiate bene chiaramente quando finirò il video mi accorgo se effettivamente mi avete sentito o meno ma vediamo dai è uguale va ormai se parte e non mi fermo più avanti 70 km rari massimo guarda questo continuano a smutare a giocare con il sangue giocano con il sangue ammazza proprio gioco satanico mi sembra è finita non ne parte un'altra sembra quasi uguale a quella di poco fa senti io non ti aspetto e neanche a questo camisale addosso urto con un altro veicolo lo so è colpa mia ovviamente è giusto sono troppo intelligenti ne hanno fatti in modo così intelligenti l'intelligenza artificiale è veramente intelligente poveraccio non è riuscito a frenare in tempo mo so cavoli dobbè danno 2% mo so cavoli non me lo pagheranno bene sto carico vabbè è uguale va tanto ma se qualcuno mi sarà addosso mi incazzo capito fatemi camminare con sto mostro della strada per favore si va verso Verona raga carburante ne abbiamo ancora a sufficienza a tutto gas siamo a 90 speriamo che non becchiamo qualche autovelox raga guarda come vado veloce vedo come un pazzo tutta la strada è mia tutta mia 110 raga e passa 115 dai ancora più veloce devo andare ripigliamo sti 120 dai che c'è la famo ci siamo a 120 ok qua c'è una bella curva mi sa ok siamo ancora sali e salvi limite di 100 oh yeah strada tranquilla messo modo largo c'è il nicchio che va tutto gas che c'è fredda oggi come sempre insomma oh c'è un aereo lì che mi passa sulla destra l'avete visto? ah già non lo vedete perché c'è l'inquadratura del mio volante non lo potete vedere guarda tutti come vanno piano ma io cedo sotto a tavoletta vaffacche stavo per perdere il controllo dai non perdiamo il controllo di sta bestia e vai a tutta birra come si suol dire ue 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 guarda sono sgraziato era tutta velocità io vediamo che questo non mi sale addosso io vado a tavoletta bello e che cavolo se va a tavoletta arriveremo prima si dice no? guarda come va veloce 130 speriamo che non c'è l'autovelox che già 400 euro di multa me l'hanno fatta oh cavolo devo andare a destra lol stavo andando dritto ma porca che cavolo è mi frena te botto questo ma tu guarda sta ehi ma la musica è che è finita che si è bloccato boh musica aspetta la sento lontana ma si sente qualcosa difatti si chiama la canzone si chiama miraggio difatti a malapena si sente eccola sta partendo ora DSV PCP oh auguri oh come ho fatto a posto collega bi 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 ok faccio spazio lui resta nel suo spazio ha capito miraggio miraggio io sto morando ah mondoianze eeeh sta morendo mondoianze che io devo dire eh eh ammazza aleggia fuori dal mondo ah vabbè vabbè se lo dice lui io ci credo allora qua vado veramente spedito e fa che io vado veloce come il vento devo solo stare attento a dosare un po' col volante altrimenti è facile perdere il controllo e boom miraggio oh o dice un'altra volta condoianze dice miraggio o mi lancio guarda 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 come li sorpasso tutti uoi che cacchio è successo non lo so ho solo sentito una botta però non mi ha dato multa non mi ha dato niente però ora andiamo un po' a vedere no successo niente quanto non mi piace stare nella corsia di sorpasso con sto camion accanto ah Andrea non mi strusciare contro quindi ci sono stati oggi due contatti uno l'ho dovuto pagare uno si spera da no e non mi ha fatto neanche danni però ormai con quel 2% di danno comunque non mi daranno la paga buona ma vabbè fa niente tanto però male ho 250.000 euro quindi fa bene anche così c'è il segnale dell'auto velox c'è il segnale dell'auto velox c'è il segnale dell'auto velox quindi qui da qualche parte c'è l'auto velox devo stare attento devo stare parecchia attento devo stare parecchia attento devo stare parecchia attento che si è messo davanti dice così va non vai veloce non ti becchi la multa mi ha fatto rallentare apposta alla fine sonno mio è lo stesso pure con la musica questo gioco proprio mi fa venire un sonno da paura e' così mi piace questo sottofondo mi piace aspetta un po' vediamo a destra chi c'è nessuno tutto centro dell'illusione vorrei passare la gente ahiaiai che viaggio mega lungo me sa c'è un tunnel guarda il cielo di sera e penso solo al domani guarda questo con sta mini che mi deve superare solo nel futuro sotto spezza in avanti vediamo un po' il camion da fuori ah alla gta guarda che ammortizzatori che c'ho ok ok ma guidiamo bene perchè qua c'è una bella curva sennò oddio odio quando vanno piano dai almeno potresti anche camminare no iiii guarda come li passo tutti messo oddio che è lavoro in corso lavoro in corso mi devo preoccupare coda no eh eclatatina alla testa allora dobbiamo ancora andare dritti andamlo dritti direzione innsbruck ma si dai e che ci vuoi Siamo partiti da Milano Già siamo in Germania Tempo qualche minuto Che ci vuole andare Via per il mondo Allora, questo chi è? Winners Petitions Ah, spedizione per chi vince Ok, oh Guarda un po' il casello Pensavo quasi che se lo fossero dimenticati E per un pelo Per un pelo non ho beccato La sbarra Ho frenato proprio al millimetro Andiamo un attimo a fare il pieno Famo il pieno Mi abbasso così vedete quanto Famo di pieno Siamo quasi A posto Collega, buon riposo Io non dormo, no Faccio tutta una tirata DHL Dove il potere a fondo a piedi Non più respira Oh yeah Un'aria di sosta per chi ama dormire Ma io no Io vado dritto verso la meta Eh Comunque dai raga Ho già superato tutto sommato i 15.000 iscritti Dai Che devo dire Speriamo che presto arriva a 20.000 Penso che se tutto va bene A 20.000 Tra due mesi e mezzo Penso che riuscirò ad arrivarci Dai Sono molto contento Finalmente cambio un po' il numero Dal 10.000 Dal 10.000 al 20.000 Ah Cioè tutto un altro numero Ma che è un altro autovelo? Eh Un altro casello Madonna 61 Eh Non ho pagato poco fa Ma Boh Chi lo sa Dai È tutto gas È tutto gas Che completiamo sto lavoretto da niente Cos'era quella roba? C'era un cartello che indicava l'autovelox o cosa? Devo stare attento Devo stare attento Devo stare attento perché c'ho paura che c'è un autovelox C'era 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 un autovelox C'è qualcuno che arriva o no? Pusciamo Messa Arriva Nick, fatelo passare, tanto non c'è nessuno Ok mettiamo un po' l'acceleratore fisso così che non devo schiacciare il pedale perché sennò mi viene ogni volta il crampo al polpaccio Renesia, iaia, oh Messo Scusi eh, ma vado di fretta oggi, sa com'è Ah, stavo per beccare il guardrail Madonna, che montagna che c'è lì davanti E che Cos'è quella roba là? Ah, si è riparto da capo, mi sa Comunque bravi non è che siano tanti Sono, si hanno, sei, sette Quindi Non ci vuole molto, insomma, girasseli tutti Ah no, forse sono messi casuali, vero? Possibilmente ripete in fretta anche lo stesso brano Ho messo, mi sa, la riproduzione casuale dei brani, quindi Possibilmente me ne piglia due più volte Cioè uno me lo riprende più volte magari Eeeh, un po' troppo Ok Questa è la mia preferita comunque, dai Questa è la mia preferita D'altronto l'ho messa anche nell'intro E dove siamo? In Germania Siamo arrivati in Deutschland Oh, che bello Oh, questa canzone mi piace in casino Cioè più che altro Mi piace, insomma I strumenti Salzburg Sto arrivando Oh, mo canto io, cavolo Questo mi dà preoccupazione Questo mi butta una frenata all'improvviso Lo so, devo stare attento Anzi, me ne tolgo subito Che è meglio, va Non si sa mai Certo Così Dhl, oh Portami il pacco Dhl No, di fatti non scherzo Domani aspetto il pacco da Dhl Quindi Speriamo che era lui che me lo deve portare Speriamo che mi arriva puntuale Intanto noi Boom Speriamo il pilota Sì, il pilota automatico Niente che fosse un aereo Così Madonna che buio Non si vede niente Ma sì Dai Finalmente un paio di lampioni Oh, è finita Devo andare dritto Un altro che scaccia uova Proviamoci Ma io c'entro i lampeggianti Ero lì tutto concentrato a guardare i lampeggianti e non ho visto l'autovelox E già siamo a 950 euro di multe Di multe, sì 950 euro di multe E che è? Oh, ma poi sono così ben nascosti perché non si vede niente Chiaro, no? Non si vede niente, è buio totale Non mi ricordo qual'è il tasto per i fari, insomma Per rifare i lunghi, va Per gli abbagliamenti Eeeh, per il sonno Molta goghe Finché sono multe virtuali non me ne frega niente Se sono multe reali, lì c'è da piangere Ah, quella canzone di prima è Quelli che sputano e giocano con summer Che roba, oh Non c'è capito qualcosa Dai, che sto andando a 120 Speriamo che non ce l'autovia lox Ciao, compà, scusa, devo passare Madonna mia, buio totale Meno male che c'ho Il navigatore Almeno so che c'è una curva a sinistra Aspetta, andiamo più piano Perché se c'è l'autovelox Non me ne accorgo Il denaro copre il vero E coppa pure il mio destino Guardo dentro gli occhi di mio figlio Mentre c'è il suo respiro Ma donna che è Mentre c'è il suo respiro Mh, picciola in caffè Altro che sangue Ma dai, non passa nessuno Alleluia Che non passa nessuno Sì, che mi viene sonno Dai, che ce la famo Non manca molto Arriveremo Consegneremo Ci prenderemo quei pochi soldi Saremo mega contenti Questa è nuova come canzone Dai, non l'ho sentita più Andiamo avanti Andiamo avanti Ah, che sonno Raga, lo so Ma io non... Boh, cioè Mesto gioco Mi fa venire un sonno pazzesco Non so a voi Com'è che non ve lo faccia venire Me lo chiedete Vi divertite Io... Mi viene un sonno Che sinceramente Forse preferirei tornare al lavoro Ammazza Se qualcuno dice Nicchia Ma parli poco Ve l'ho detto Mi viene sonno Sto gioco Ascoltatevi il tipo Della canzone Qua Parla lui per me Oggi Io dormo Dai, dai Poi non c'è niente Buio totale Non si può neanche ammirare un po' il paesaggio Ci siamo quasi Un'altra curva Che è? Una nave? Che è quella roba? Ma non ci stanno neanche macchine Non posso neanche prendermela con qualcuno Ma non ci stanno neanche anche con un gioco di guida soprattutto un gioco così, diciamo, tranquillo di guida DHL pure qua sei ciao collega botte il pacco domani, ah, mi raccomando non vai a fare il pieno te? no? vabbè dai, yeee ma quanto manca, vediamo buh ancora manca un bel pezzo ah, ho sbagliato a proposito dei lampeggianti togliamoli, vada e danno fastidio ancora di strada ce n'è da fare eh cioè, penso che l'avete capito raga un po' da arrivare, consegnare che... il sonno che mi viene si, dici nicchia, brava, tanto è sera te ne puoi andare a letto, vabbè, oh e me ne devo andare a letto facendomi fare la nina da sto gioco voglio dire, oh ehi stavo andando a sbattere contro sto, sto coso ah izzica mmmm ci vorrebbe qualcosa poche coffee non ne avete raga poche coffee me ne passate uno ci vorrebbe veramente poche coffee che com'è che faceva non mi ricordo neanche come fa il motto non mi ricordo questo son non mi ricordo niente la carica del caffè e l'energia del cioccolato faceva così mi pare più o meno più o meno faceva così a tutto gas oh god speriamo che non ci stanno autovelox perchè neanche ci sto guardando ci sono già passato da qua mi sento che no lo posso sì no via avanti ci siamo eh fuck non l'avevo vista questo madonna mi ha fatto prendere un colpo neanche se stessi giocando a Outlast lì il gioco horror insomma aspettiamo il verde se va ah ma è andato tutto gas va è bello wow 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 guarda questi wow wow non va bravo spostati devo anche andare a sinistra oh mi sa che c'è il semaforo posso no non c'è io vivo nell'eterno ti parlerò nei sogni ti cuiderò se vuoi a che punto siamo ah ci siamo quasi va stiamo arrivando bello finalmente che sonno mi sta mangiando vivo oh oh hai visto ha detto il motore rompa forte nella notte quindi lo sa che sto guidando ah non sentirei ah no ah no ah 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 ok ah lui vede le pensieri buono ah piangere non ha senso io non vivo nell'eterno ti parlerò nei sogni voglio dormire lascia stare lascia stare non c'è bisogno grazie del pensiero ma voglio dormire per i fatti miei grazie speriamo che non c'è un autovelo sin tanto mentre dico quattro cagate ci siamo quasi che roba è wow figo non so posso di vedervi in compagnia giorni tesi e sono rabbia dentro me dai è che manca poco e arrivo vivo madonna linea continua e questo me frena pure ancora no grazie te l'ho detto poco fa non c'è più solo ah l'ha capito siamo quasi va oh pensavo stavo camminando stavo andando ci ha ripensato ci ha ripensato non si vede niente vai ci siamo quasi va siamo quasi arrivati va che poi non è che è durato così poco questo viaggio sempre una quarantina di minuti ce le siamo fatte voglio dire no probabilmente si una volta senza mai avere ragione la verde ha conquistato in più in un'occasione vero un un dito sempre in una direzione ehm puro ritrovassi sempre solo a pensare e sempre il tiri rere per poi scherzare dalla stanza accanto solo io ti ascolto Con un dito raga, con un dito Ma che duro sto volando Ci siamo Bratislava esplorata Bene Allora la sbatto, ora la sbatto, ora la sbatto Dove? Sul volante? Shit Mi ha fatto perdere tempo No, no, guarda Lascia stare, non la voglio sbattere la testa Oh, non c'è nessuno, dai Non vedi che non c'è nessuno Diventa verde e andiamo avanti, no? No Finalmente, no? Oh, finalmente Chi è? Oh, madonna, ma mi sembrava un'altra multa Vediamo se riusciamo a fare sto benetto parcheggio come si deve Ok Ok, proviamo Piano piano Ma ce la fanno OK Oh, proprio una schifezza di parcheggio sto a fare boh va bene così va bene lo stesso ottimo lavoro perché ho fatto un po di danni vabbè dai perso poco livello 21 maestro da una vita che sto a livello ormai vabbè e ora te la sbatto sta testa te la sbatto si madonna mi sbatti le corna sbatti le corna e che stoppiamo sta musica che si sta a portare la testa ok ma comunque raga insomma dai vi ho fatto il gameplay spero che vi è piaciuto come sempre ragazzi commentate iscrivetevi al canale se vi va e niente come sempre ci becchiamo in altri video che come sapete li faccio abbastanza spesso quindi ci si becca sempre in fretta se vi chiedete perché guardo a sinistra è perché c'ho sto brutto vizio di guardare il secondo monitor che poi vero male penso che un pochino si vedeva con l'altra della camera cioè il monitor che mi indica che mi fa insomma vedere l'anteprima della registrazione quindi vado insomma lì a guardarmi io stesso ecco ma guardo io stesso mentre parlo ok quindi non c'è altro che io debba dire vi saluto appunto ci becchiamo presto ok ciao raga stoppiamo il video ciao ciao